Dunque comincia il secondo tempo così come nel primo con un tiro che finisce in angolo questa volta di Ercole Ricordiamo che il punteggio per adesso è fermo sul 3 a 3, le squadre sono Dreamview e Autoscotto E proprio Dreamview manovra con Longobardo, torna dietro da Ercole Ercole autore di una doppietta nel primo tempo Fa possesso Dreamview Mentre Autoscotto aveva trovato il doppio vantaggio, poi si era fatto rimontare E adesso tutto da rifare per entrambe le squadre Meno per Autoscotto che sembrava avere una marcia in più nei primi minuti Poi Fucci ed Ercole sono saliti in cattedra con ottime giocate Due pali colpiti anche da Fucci Qui Di Maio colpisce proprio Fucci E allora riparte di Caterin over con l'Andrea, con l'Andrea E ci mette la mano a Scotto che poi va a sbattere contro il palo Poco sobrio in questo caso il portiere Il portiere di Dreamview Adesso allarga Per Ercole Fucci Con l'Andrea Gira per Chiaro Lanza Autore di un primo gol, poi Chiaro Lanza si è spento Fortezza che invece è rimasto sempre attivo e prova il destro Riparte in velocità Fucci, Chiaro Lanza Scusate, Fortezza lo scaraventa nella rete di protezione Ha qualcosa da ridire, fortezza Ma l'arbitro Pacia comanda una punizione in favore del Dreamview C'è Ercole sulla palla Ercole Colandrea rispinge col corpo Adesso Di Maio Che ancora non ha trovato Guizzo giusto Fucci Era più un tiro da giocatore di rugby Che altro Fortezza Richiama i suoi Allarga Chiaro Lanza Che ritorna da Fortezza Chiede di scendere Ma non scende E non lo fa e sbaglia Fucci Fucci Giocata ancora Tunnel di Di Maio Poi Fucci Ancora lì Fucci Azione confusa E Lazard Da 10 centimetri La para Col corpo Adesso Di Maio Sulla linea L'arbitro comanda un fallo in attacco Di Di Maio Mentre il punteggio Confermo di 3 a 3 Tra le due squadre Palla che torna dietro per Colandrea Adesso Colandrea Mamma Ercole Lo chiude proprio all'ultimo istante Allora Fucci In attacco Si gira Può calciare Trova Chiaro Lanza davanti a sé Guardate invece la curva gremita Dei tifosi ospiti dall'altra parte Quasi 8 Quasi 8 spettatori Sono venuti in trasferta Col triciclo Maio fa passaggio per tutto il campo Ercole Pacia dice che è tutto ok Allora sarà calcio ad angolo Ercole Dentro Doppio d'impallo Riparte con Andrea Deve passare in mezzo a 2 Allora per Di Caterino Trova il Il giusto rimpallo Per una rimessa a favore Chiaro Lanza da lontano Sinistro Che non impensierisce Minimamente scotto pronto Tra i pali Ercole Passaggio per Fucci Che si gira E non trova lo specchio Dunque punteggio che rimane bloccato sul 3 a 3 Adesso Ci prova Autoscotto a ripartire Ma Sbaglia il controllo Chiaro Lanza E allora Ercole Sembra avere più energie La squadra in giallo e rosso Qui Fucci deve fermarsi un secondo Per una botta ricevuta Alla schiena E con l'età Gli acciacchi si fanno sentire L'arbitro però non Non rileva nulla Discorretto E quindi Chiaro Lanza deve battere la rimessa Ma con tanto per play Dà la palla Alla squadra di Merone Può ripartire ancora una volta con Ercole Adesso sembra essere di rinvio a fare la partita Fucci Fa andare a vuoto con l'Andrea Poi sbaglia Longobardo E allora con l'Andrea Fa 4 a 3 Erroraccio Di Longobardo Che quindi Fa partire praticamente di Carolino Di Caterino Ho sbagliato almeno 12 volte il suo cognome Stasera Che ha servito Solo in aria con l'Andrea Che ha trovato la doppietta personale Adesso gioco fermo E palla ad Ercole Che può girare Anzi preferisce proseguire Poi gira bene invece per Longobardo Trova De Maio dietro Di Maio mi ha chiamato anche De Maio Perché per le qualità simili A quelle del difensore Della Serie A Adesso con l'Andrea Si gira e si rigira Fa impazzire Merone Che poi però recupera Merone Calcia Ma calcia quasi nel campo da tennis E allora adesso calcio d'angolo Anzi rimessa E' stata deviata La palla di Merone Longobardo Sbaglia L'appoggio Per Di Maio Riparte Chiaro lanza Ma anche lui sbaglia il controllo Squadra adesso Un po' a terra fisicamente Sbagliano spesso i controlli I passaggi Di Maio Ercole Che proprio in condizioni In cui le squadre si allungano E sono un po' più stanche Potrebbe diventare fatale Adesso Di Maio Deve girare per Longobardo Torna dietro Longobardo Tranquillo Pallone Messo dentro Per Merone Sbaglia il controllo Il capitano Chiaro lanza Appoggia Prova ad andarsene Nulla di fatto Adesso Merone Potrebbe approfittare L'arbitro Chiamo un calcio di rigore Per un fallo Di Lazzarra Che viene anche ammonito Ai danni di Merone 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 che è finito a terra E quindi calcio di rigore In favore di Dreamview Che potrebbe portarsi Sul quattro pari Ci va Fucci Dal dischetto Fucci dunque Contro Lazzar Fischia l'arbitro Va Fucci E non fallisce Quattro pari Fucci Non ha sbagliato E quindi Ristabilito Il punteggio Di parità Dreamview Che però Ancora deve trovare Il gol del vantaggio Ha sempre acciuffato Il risultato Una partita che sembra Essere in bimico Quindi Deve Superarsi Scotto Sul tiro di chiaro lanza Bellissima la parata Del portiere Di autoscotto Proprio scotto Adesso per Fucci Con un sombrero Salta di Di Caterino Che poi recupera La palla finisce Tra le mani di scotto Gira bene Nel frattempo Palla che si gioca A centrocampo Fallo Ci va Russo Sulla palla Quindi fallo E danni di autoscotto Che potrà usufruire Di un altro Di un'altra punizione Di un altro calcio da fermo E soprattutto Di un altro Cumulativo Per ora Comunque è partita Abbastanza corretta Due Iammoniti Ercole e Lazare Ci va Russo Allarga per fortezza Fortezza ancora Di punta Non trova L'angolo di un soffio Ma la palla è stata deviata Allora sarà calcio D'angolo Ci va Di Caterino Ancora fortezza Fortezza prova ad andarsene Si lancia in aria E sembra essersi fatto male Se la prende con la rete di protezione Fucci prova a tranquillizzarlo Gioco fermo Gioco fermo L'arbitro Pacia Si assicura Che sia tutto ok Vediamo se chiede All'intervento dei sanitari Sembra tutto ok Zoppica leggermente Fortezza Ma sembra in grado Di proseguire A tempo il calcio d'angolo Chiaro Lanza Ancora per Di Caterino Che aveva provato a superare Con un cucchiaio Il portiere Ma niente da fare Allora Ercole Porta palla Se la soffiare Ma ancora a sua Quindi Torna dietro da scotto Il sette di rinvio È Di Maio Viene chiamato il cambio Proprio a lui Scotto lancia Merone prova Un improbabile colpo di tacco Arrivano altri tifosi A gremire la curva La curva benessere Adesso palla recuperata Da rinvio Che può partire In controviede Fucci Spaglia il controllo Poi ancora Ercole Ercole sta facendo Un po' il pendolino Adesso Palla girata bene Da Merone per Fucci Campo comunque bagnato Dopo la pioggia di oggi Per la tanta umidità Ascesa Nel tempo scoppia Una rissa Sugli spalti Sedata subito Dal telecronista Luci Cosa è successo in tribuna Ho visto Manni volare Probabilmente Il nervosismo Per la partita Sul punteggio Di 4 a 4 Sì la partita è molto tesa Un tifoso avversario Ha detto una brutta parola Mi sono molto innervosito Mi sono saltato addosso Ora però è tutto ristabilito Ora pensiamo a una partita A godercela Dai Sì diciamo bene Sì diciamo bene godercela Perché Adesso diventa interessante Vedere Cosa Chi la spunterà Sì chi la spunterà Adesso Fucci Palla deviata in angolo Merone Dalla lunetta Mette la palla Dentro forte Si va a trovare pronto Lazzar Sul primo palo Francesismi Che volano Qui in tribuna Adesso Rischia Tantissimo Ercole E deve Rinviare Con i piedi scotto Ercole Non può Concedersi Queste giocate Poi ci prova Di Caterino Con un destro A incrociare Che finisce Lontano Partita che si sta Scaldando Dal punto di vista Agonistico Logicamente Non dal punto di vista Dei nervi Perché È tutto sotto controllo Bravo Anche l'arbitro Pacia A tenere le squadre Adesso Chiaro Lanza Scotto Si oppone Chiaro Lanza È un interruttore Che si accende E si spegne Adesso La palla Fortezza La porta con la sua Poi subisce Fallo Può partire Fortezza Da lontanissimo Palla alta Scott Scotto Allorava Il rinvio Per Merone Fortezza Ancora ne esce Fortezza Per Trova un gol Fortuito Poiché di Caterino Aveva calciato Addosso a scotto Poi la palla Ha deciso Di fare un flipper Praticamente In area di rigore È finita Addosso A fortezza Che dunque Riporta in vantaggio I suoi 5 a 4 Adesso Ercole Palla deviata Chiamano l'uomo Merone Da dietro Passaggio Lunghissimo Qui Di Russo Che non si sta Mettendo in mostra Stasera Può provarci Ercole Comunque A far riprendere Su Adesso Merone L'arbitro Chiama il fallo Per scivolata È un batte Ribatti Continuo Questo tra le due squadre Partita Comunque Sempre in equilibrio Sulla palla Per questa punizione Ci va Ercole Il talentino Può provarci Sembra cambiare Traiettoria Prima col sinistro Adesso col destro Forse c'è Merone Barriera a tre Più il portiere Ercole Sotto Sotto la barriera E ancora Ercole Allora Tripletta per lui Fa 5 pari Fa 5 pari Ercole Dunque Altro vantaggio Sprecato D'autoscotto Una partita Molto equilibrata Dice Adesso Con l'Andrea Ci prova Fucci Ne esce bene Fucci sta giocando Bene Ma non è fortunato Stasera Ha trovato il gol Ferra sul calcio Di rigore Poi due pali Ottimo il palleggio Di autoscotto Che adesso con Di Caterino Autoscotto che tende Sempre ad arrivare in porta Con 2-3 tocchi Mentre Mentre Turn in view Prova Con azioni di sfondamento Più che altro E poi con le magie Di questo uomo qui Che è Danilo Ercole Tripletta per lui Stasera E allora Quando siamo Giunti al Diciottesimo Minuto di gioco Punteggio Sul 5 pari Rimessa Battuta Da Di Maio Che è rientrato In campo Larga per Fucci Poi Di Maio La difesa controlla Recupera bene Merone Fucci Può provare Il sinistro Che finisce Oltre Il fondo Addirittura Quindi non trova Per nulla Lo specchio Difeso da Lazzar Fortezza Prova Un lancio Lunghissimo Nel frattempo Qui in tribuna stampa Ormai siamo più che in Che sugli spalti Calcio d'angolo Anzi no Scusatemi Rimessa Rimessa Ercole Sbaglia però Il passaggio Il russo Davanti alla porta Fallisce clamorosamente Il gol Del 6 a 5 Tunnel qui di Longobardo Che se ne va ancora Per Fucci Fucci calcia Ancora Ancora Fucci Che ricalcia Che ricalcia Che ricalcia Ancora Egoista Qui L'attaccante Del dream view Soprattutto sul primo tiro Quando poteva servire Longobardo E Di Maio Liberi Adesso ancora Fucci Prova ad andarsene Palla messa a terra Da fortezza Da fortezza regolarmente Sbaglia A rimanere Sull'insufficienza Fortezza Deve far salire i suoi Ancora fortezza Altro lancio Bravo Longobardo Qui Palla appoggiata Con l'Andrea Che si riporta La palla E Fallo Di Longobardo Vediamo Vediamo se È il numero 5 Vediamo se L'arbitro Accumulato Palla Risposta Che ha fatto Con il tiro Ci va Russo Probabilmente Ci va Russo Sì Col destro Alta Palla lunga Uh esce L'Azzar Qui Sul pallone Lungo Che appoggia Per fortezza Con l'Andrea Ancora Con l'Andrea Chiude Di Maio Stavolta Fa un grande intervento Il giocatore In giallo Maia giallo-rossa Palla lunga Ercole Stavolta avanti Fortezza Deve fare quello che può L'Azzar non può Prenderla con le mani Allora deve rinviare E stavolta con le mani La tocca Invece con l'Andrea Altro fallo In favore di Dreamview 5 pari Vedremo se arriverà Il primo pareggio Di questo Tam Ancora Con l'Andrea Discute per chi sia Questa Questa rimessa Adesso Ercole Deve mettere dentro Niente da fare Adesso squadre lunghe Poi Ercole Vicino al gol Il C5 Qui controllo Delizioso Di Ercole Che però finisce fuori E allora rimessa In favore di Autoscotto Che può provarci Con Fortezza Ha battuto la porta 6 a 5 Tripletta Anche per Fortezza E nuovo Vantaggio Di Autoscotto Ancora una volta Si ritrova A inseguire Dreamview Quando mancano Ormai due minuti Alla fine Vediamo se Stavolta Autoscotto Riuscirà A tenere Vivo Il vantaggio O a farsi recuperare Ulteriormente Scotto Non ha la vista Neanche partire La palla Sull'ultimo gol Adesso Chiaro Lanza Che è scomparso In questo secondo tempo Adesso Passaggio Passaggio In mezzo a due Riparte in velocità Merone Che dovrebbe Alzare ogni tanto La testa E guardare i suoi Merone prova ad anticipare Non ci riesce L'ora di Caterino Dentro Chiaro Lanza Non ci arriva per nulla Non ci arriva per un nulla Chiama il cambio Qui l'arbitro Ingenuo Merone Passaggio Fortezza Tenere Può solo guadagnare tempo Però Longobarto Recupera il pallone Allarga per Ercole Che Fa fallo Ed è il quinto Quindi Ulteriore Vantaggio Dal punto di vista Di falli Per autoscotto Qui palla Di Caterino Per fortezza Calcia addosso A scotto E qui Ercole È tutto regolare Calcia Lazare Dice di no E potrebbe essere L'intervento decisivo Questo Perché quando mancano Pochi Istanti Alla fine La Zarra ha trovato La parata Sul destro di Ercole Il pallone Appoggiato A Longobardo Che prova A trovare Merone Che fa un fallo Decisamente Inutile Sarà tiro libero Per un fallo In attacco Nel frattempo Succede L'impossibile E qui Proprio Negli spalti In tribuna stampa Ma c'è fortezza Che calcia Alto E allora Sprecato Ma sta succedendo Di tutto In questi ultimi minuti Qui Ercole Si alza la palla Poi la mette a terra Ercole In mezzo a due La tocca La palla è uscita Sarà rimessa Riparte Di Caterino Lo ferma Ancora fallo Longobardo Sarà ancora tiro libero Ed è il secondo In favore Di Autoscotto Che può chiuderla qui Ci va Chiaro Lanza Sul pallone Potrebbe fare 6 a 5 Scusate 7 a 5 Chiaro Lanza Il sinistro Scotto Poi ancora Chiaro Lanza Longobardo Va a liberare E fa ripartire Fucci Chiaro Lanza Ci mette il fisico E fa ripartire Fortezza Centrocampo Fortezza Tiene la palla Fallo ancora Altro No Chiama a fine Della partita L'arbitro Pacea E allora 6 a 5 Per Autoscotto Che finalmente riesce A tenere il punteggio A favore E adesso Quindi Andremo alle interviste Ai protagonisti Tiene la palla Tiene la palla A